Ciao a tutti, sono Zotte e bentornati nella diversi titoli e confessura gamer in questa fantastica serie di collezione delle lane. Nello scorsi episodio abbiamo fatto il branch parkour abbastanza facile, me l'aspettavo un po' più difficile ma penso che il creatore è stato sentito. Bene ragazzi ci stiamo avvicinando un po' alla fine, dato che vi vogliamo portare 4, comunque gli ultimi lane soprattutto l'avventura e la survival saranno quelle un po' più lunghe però vedremo, vedremo. Quindi, sei pronto? Oggi andiamo a fare gli escape, che è un pochettino simile nella roba del puzzle perché sapete com'è, un po' la stessa meccanica. Sarà meglio che non ci mettiamo allo stesso tempo. Già, allora qua era la leva della parte rosa. Allora, sbagliate le ragioni. Come facciamo ad andare qua? Ah, ecco c'era un'altra leva. Cosa c'è il ciano? Sì. Oh, delle scale. C'è un labirinto, yeee. Una miniera. No, dobbiamo... Ah, vedi con il tetto di escape. Oh. Oh. No, mi... No. Ho capito. Wow, stavo laggando, ma... Yeeeah. Io non ho laggato. Fantastico. Dai. Pregate, bambini, mi raccomando, che la luce è sempre la salvezza. Ok. Perfetto, lo sapevo. In prigione. Welcome to my escape, Benjam. I'm called the fusion, the creator of this cozy prison cell. To claim the same wall, you must find a way to escape. Ok. Perfetto, dobbiamo trovare un modo per scappare. Ovviamente, noi siamo bravi con il find the button, quindi. Una leva qua. Che... Parerà qualcosa, perché, vedi? C'è... Oh. Non fa niente, tu? Sì, eccola qua. Ah, bravissimo. Vedi, sono troppo potere. Abbiamo già vinto. Ah, è troppo facile. Sì. Un altro livello. Ah, guarda qua. Ti ricordi? Il tuo magico palo. Behold my creation. Oh mio Dio, la dimensione... Ma il cian, cian, cosa significa in italiano invece che colore è? Il cian, ciano. Il ciano. Il ciano. Bene, siamo nella dimensione impossibile del ciano e quella cosa lì sopra di noi cos'è? Mi spaventa un po'. Sto arrivando anch'io. No, l'ho appena notato io il viaggio. Vedi? Quello... Quelle sono le Hawaii del futuro. Da carpita. Sì. Questa roba qua mi fa laggare secondo me il server. Ma no. È pienissima di blocchi. No, ma no, l'ho detto così in modo perché ci sono troppi i blocchi. Ok, puzzle 1. Puzzling past pillars. Vabbè, questo qua è un puzzle molto semplice. Guarda. Ah, ok. Gli erano delle piattaforme. Aspetta che salgo anch'io. Aspetta, ma se io faccio così. Ah, ok. Salgono i blocchi, perfetto. Primo puzzle fatto. Ah, no. Se ti piacerebbe il primo puzzle fatto. È sparito il creatore. Vai. Eh, devi farlo anche tu. Sì, sì. Aspettavo che tu... Ok. Beh, è carino, dai. Cosa ne pensi adesso come primo livello? Interessante. Interessante. Adesso dove è la leva? Eccolo qua. No? Ah, sì. Fantastico. Cosa fa questo? Allora, aspetta, aspetta. Ok, qua si può andare qui. E poi? Lascia, lascia andare. Vediamo. No, no, ok. Lascia così, perfetto. E ora si apre... Oh! È sparito di nuovo il creatore. Eh... No, aspetta. Cosa bisogna fare ora? Eh, mi devi liberare però. Posso sentire andarmi a... Grazie. Non vorrei rimanere qua bloccato. Perfetto, qua. Eh... Vieni qui e si sale. Eh, però giù, ma dici... E qui... E qui... Allora, è un po' una sottospecie di parkour, ma vabbè, noi siamo abituati dall'altro episodio. Ok. Bene, adesso cosa bisogna fare? Ah, ok, bisogna attivare il nuovo questo coso qua. Andare su questo qui. No! Ok, aspetta, te lo ritolgo. E vai, andare su questo qua e andare su questo qui. Easy. Interessante, saranno i soliti 8-9 livelli. Ok, aspetta un attimo. E aspetta, è qua, allora mi sa che c'è una leva. Scusami. Vedi lì? Si può andare sotto. Eh, mi... No, scusami. Vabbè, intanto non serve a nulla. Ora? Lì, lì, lì la... Quella leva lì, tu dici, che va disattivata, eh. Vai. Perfetto. Vediamo se fa qualcosa ora. Non fa nulla. Ah, forse è sotto. Ecco qua. Però l'ho detto. Bene. Prossimo livello? No. No. Non abbiamo ancora finito. Oh. 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 Devi... Che devi rifare... Ah no, anzi. Devi andare alla... Vabbè, è la stessa identica cosa. Una gloriosa... Una gloriosa sala da pranzo. No. Living room è un glorioso soggiorno. Evidentemente... You know how to jump. Well, let's see how will you... Ma perché? Ma per... Quindi mi sa che dobbiamo andare qua. Vieni qui. Vessore gamer. Vabbè. Me lo rubo... Me lo prendo io l'arco. Non si sa mai. Ce l'ho anch'io l'arco. Bene. Però... Siamo nel livello 2. Che non ho capito cos'è. Vabbè. Dove sei? Scusa. Allora. Devi andare dalla parte opposta qua. Perfetto. E... Da sempre parkour. Mi sa. Ah! Oh mio Dio! Non si può saltare. Sì, lo so. Ho capito. Dovevamo tipo attivare le... Oh... No. Questo puzzle... Odio. Ehm... Ok. Aspetta, aspetta. Oh, furbo. L'avevo fatto. Ok. Aspetta un attimo. No. Vai. Vieni qua. Ok. Vai. Ci siamo. Fammi sparare un po'. No, ma... Sta fermo. Ah, ok. Lassa, lascia fermo. Ma... Allora dobbiamo fare uno alla volta. Ma che co... Qua? Ok, qua sì. Grazie. Ok. Ritorna su. Che complicazione. Ok. Non tocca niente per tutto qua. Oh, oh. No, aspetta. Ok, aspetta. Fermo, fermo, fermo. Fermo, fermo. Fermo, aspetta un attimo. Aspetta, ci sono, ci sono. Oh. Ok. Sono un po'... C'ero anch'io lì sopra. C'ero arrivato. Tu? In modo dobbiamo arrivare... Allora. Ok, no. Non posso... Aspetta, aspetta. Aspetta, fermo. C'è una leva. Voglio andare ad attivare tu. Dove la leva? Eh, ma non ci arriverò mai, eh. Perché non potendo saltare... Sì, non penso che... Aspetta. Ritorno indietro. Fermo. Stai mi facendo cadere, ma vabbè. Eh, già detto, infatti, fermo apposta. Disattivami un po' di cose, perché non vedo un tubo. No, allora, volevo... Eh, così non riesco a vedere. Proviamo questo. Ok, vai, vai, vai. Girati, girati, girati. E attiva. Grazie. Ah, ma aspetta, ma... Vessura Gamer. Scusami, Vessura Gamer, girati. Se potrevi essere un po' più intelligente, dato che sei una impulsante là in fondo. Ah, non l'avevo visto. E non cliccare, non cliccare. Potrei a tempo. Oh mio Dio, aspetta, stai fermo qua. Ah, ok, ho capito. Non toccare. Ok, c'è Angel percorso. Ok, aspetta. Fermo. Aspetta. Ok. E adesso... Ho caduto. Come faccio ad andare qua? No, aspetta, cosa c'è dopo? Ok, poi devi andare di nuovo a diventare ancora a destra. Sì. Ok. E poi... Ci sei? Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, dove sono io. Ti tiro io? Sì. Ok, dimmi quando... Vai. Vado. Ok, ok. Dobbiamo andare di qui, poi... Devi metterti qui, poi fai il blu. Ma... No, aspetta, vai blu, metti blu. Fermo, aspetta, fermo, stai lì, stai lì, stai lì, inbien al centro. Qua? Grandissimo. Adesso stai fermo, tu. Ok. Ah, aspetta, un attimo. Ok, mettiti lì. Allora, no, no. Metti l'arancio. Ok, blu. Ok, arancio. Blu. Ok, vado. Poi arancio. Arancio. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo fare il contrario. Cioè che adesso dobbiamo utilizzare gli archi al colpi e la... Oh, no. Aspetta, un attimo. Facciamo prima questo. Fermo, fermo. Ok. E ora? Come facciamo a raggiungerli? Vieni qua, fermo. Ok, qua, aspetta. E qua c'è la leva. Perfetto. Però mi manca ancora l'ultima, vai. Perfetto, blu. Qui. E ci serve l'arancione. Quei accaltimenti non possiamo passare. Bene. Fatto. Fermo, fermo. Lì, passi. Basta, non lo so, prima c'era il passaggio. Dove ti porta qua? No, I'm deaf. Fermo, non toccare niente. Eh, ok. Allora. Fermo. Aspetta, faccio. Oddio, ma sai che protetti tipo corre lì? No. Perché? Aspetta, aspetta. Eh. Fermo, fermo. Eh, ma lì, lì intanto non più c'è niente, cambia soltanto. Voglio trovare un modo, un posto... Ma ancora, perché ci va da quella parte lì? C'è qualcosa in quel quadro? Aspetta un attimo, voglio andare in quel quadro. Mi sa che è un segretto della mappa. No, ho paura qua. C'è che non possiamo fare nulla qua adesso? Sì, che si può fare qualcosa. Eh, come facciamo allora? Eh, ad arrivare lì, se non possiamo saltare. Ma non cambia nulla, secondo me dobbiamo moltiplicare qualcosa qua. Sarebbe un po' rischioso. Sarebbe un po' rischioso. Però non posso saltare qui. Fermo. No. Secondo me dobbiamo... Secondo me c'è un'altra parte, un'altra piattaforma. Dobbiamo salire ancora di un blocco in più. Ok, perfetto, così. Vieni qua su. E adesso dovremmo modificare la traiettoria. Non così. Eh, forse così, così, così. No, ma... Ragazzi, sta facendo tutto lui, eh? Cioè, quindi un applauso. Wow, thank you. Ah, sì, è un po' passino. Wow, che bello qua. Ah, qui si può saltare. Gast, guarda che bello qua. Che bello sta. Eh, beh, è una bella costruzione. Abbiamo terminato il secondo livello. Tac. I bet this net tutorial will blow you away. E' un modo di dire perché ti farà saltare... Ah, ecco qua. Non ti provare. Don't blow it, cioè... Non saltare per aria. O non farlo esplodere. Oh, no! Ma in che senso? Dovemmo uccidere il creeper, allora? Ah, ecco li li. Devi farli arrivare, mi sa, di qua senza farli esplodere. No, fai di venire qui. Proviamo qualcosa, se mi fa qualcosa qui. Aspetta. Ma non usare le frecce, abbiamo una... Abbiamo un'assa. Ti saranno... Guarda l'assa, guarda l'assa. Eh, prendila. Mamma mia. Vai. Allora. Allora, vai lì. No, 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 no. Allora, lì, lì, lì. Oh, figa. Ok, rimani fermo. Ok, adesso dobbiamo impedire l'altro creeper. Lì. Ok. No, l'abbiamo perso. Oh, oh, oh. Oh mio Dio, adesso la vedo un po' dura qua. No. No. Non devi farli saltare però gli altri. Aspetta, che non so se li mantieni. Aspetta. No. Li abbiamo attivati. Oh, che culo. Abbiamo attivato il bottone. Andiamo, andiamo, andiamo. Beh, è carino questo puzzle. Ah, abbiamo già finito il terzo livello. Wow. Aspetta, vieni qua. Intendeva dire questo posto qua? Può essere. Questo mega giardino epico? Sì, perché qui puoi mancare il glass. Ah, è il tutto. Ah, ecco qua che ci continua. Bene. Never go with overflow. Vedete, qua non serve a nulla. Ah, devi usare le correnti per salire a destra e a manca. Solo che lì il bottone di diamante sarà il fine livello? Aspetta un attimo, fammi provare una roba qua. Ecco, ci vado su questo posto qua. No, che fig... No, è una cosa bellissima. Guarda, guarda, guarda. No, ce l'ho quasi. Vedi? Ah, ok, fatto. Wow. E cos'è sta roba qua? Un secchio. Io ne ho tre. Bene, cosa dobbiamo fare ora? Sims, tu only works. Ah, questo si può piazzare solo sulla gravel. Quindi? Tipo auto cascate. Tipo. Ah, che figo. Però io ho perso il mio secchio. Tipo così. Ti fai un auto arampicato. Oh mio Dio, l'ho già finito tutto. Oggi mi sono... Ce l'ho già fatto la... Bello questo puzzle. Mi piace, mi piace. Quindi abbiamo... Quindi qua possiamo attivare il checkpoint. Mi ricordo... Beh, guarda che mi sembra un gioco da Game Boy questo, eh. Però qua non possiamo andare da nessuna parte. Basta vedere. Ah, oh mio Dio. Dobbiamo passare da sotto. Tec. Ma che roba. Devi nuotare. Sì. Ma no, ci dobbiamo andare da sotto, comunque. Sotto dove? Sì, sotto. C'è la grave sotto. Ah. Vabbè, io ero passato da sopra. Avevo bugato il sistema. Q magneto non sarebbe stato fiero. Ti avrebbe detto, non lo devi fare. Non puoi corrompere la mappa, altrimenti ti mangiamo. No, perché quella roba lì la possono fare solo i pro. Ok, perfetto. Ce lo sai? C'è il cosa? Il checkpoint? Sì, bene, andiamo avanti. Ma no, bisogna andare qua sotto. Ah, ma... Sì, perché... Eccolo qua. A Frosty Kitchen. Seriously, it took me at last five hours to play test best real. And you'll finish... Ma non so, me lo serve in realtà questa cosa di rompere il vetro, ma... Sì, ma perché così è il checkpoint per ogni ora. Vabbè, comunque andiamo qua sopra. Questa qua sarebbe... Praticamente ogni puzzle porta a una stanza di questa casa che sarebbe il suo castello, ma vabbè. Ok, siamo arrivati alla stanza col nether. Down to the wire. Ho un caduto, continua a cadere come un deficiente. Ok. Ho delle cesorie. Cosa me ne faccio, delle cesorie? Basta che legge la descrizione. A little... A little doll will only cut the fluffy part of the wire. Non posso tagliarlo? The fluffy part of the wire. Questo puoi rompere. No! Ah, ho capito, è un piccolo puzzle che... Oh, so cosa è. Hai presente quello tipo, devi guardare il percorso che fai e vedere dove arriva. Ma, no! Sì, ci abbiamo già... Oh, aspetta, ma qua si è aperto un passaggio. Versure game. Dove? C'è un passaggio qua. Dove c'è la scaletta. Cucu. Cucu! Sono qua! Allora, vedi che colpa tua. Ma, no, cosa dobbiamo fare qua? Ah, c'è un passaggio segreto nella corte dei creeper, attiva la leva! Ok, fatto. Allora, la verde cosa, che percorso fa, oh, cavolo. Va qua, sale, va, dove? Va, dove va, dove va? Aspetta, lo sto guardando. Allora, la verde, allora. Gira lì sotto la netherrack, sale qui. Va dritto, gira, gira, gira. Questa. Lo sapevo era quello che volevo. Sono troppo bravo. No, anch'io lo sapevo quale che volevo andare a prendere. Ma vabbè, dai, abbiamo completato un altro livello. Oh, un libro. Mi dai il libro? Mi dai il libro? Adesso ne hai due. Perfetto, due libri. Thank you for your purchase, you new device park. 1024 creeper, aspetta. Wow, non l'avrei mai detto. Sì, bellissimo. Possiamo andare nella prossima stanza, se si può. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio, è a tempo. No, 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 aspetta. Ma spiegami cosa dobbiamo fare. È una cosa a tempo. No, ma la domanda è... Facciamo una cosa. Uno sta su e uno sta giù. Ma la domanda è... Ma da cosa inizia? Aspetta. Allora, sto cercando anche io di capire. Cioè, tipo così? Non distrugge. No. Prova. Io sto fuori così, non esplodo. Ma guarda che comunque muovi lo stesso. Vabbè. L'arancione... No, non è neanche quello. Vedi che non muoio. Perché vedi qui, l'ordine, ma... Thank you for your purchase, Your new device packs the explosive power of 1024 creeper. Yes, discount explosive bla bla bla. Should you activate your new device by accident? Simplicate while discreate by the following tree. Allora. Cioè, le sto distruttendo tutto. Tre criteri. Allora, il cavo corretto passa sopra o sotto esattamente tre altri cavi. Oh, capito, dobbiamo guardare quali... Poi, il cavo corretto... Finisce in tre... Ok, uno è l'arancione. Finisce in tre posti. Dove inizia? Allora, il primo è l'arancione, poi manca il secondo. Is not on the ceiling. Ma ho già completato tutto. Ah. Entra? Ah, ma allora... Si è bloccato il timer. Allora vuol dire che... E all'arancione? Cioè, le abbiamo sparate tutte a caso. Ottimo modo di fila. Mi aspettavo una cosa un po' più difficile. No, è che noi l'abbiamo fatta con culo. Benissimo. Ah, host house, a host house bedroom. Ok. I will let you climb too far. Time to activate my tower completely unfair. And not at all fun security system of doom. Ok. Oh, c'è dell'armor. Ah, ci sono i cosi che ti sparano e tu devi difenderti. Ah, ok, buona. Oh. Vabbè, ma questo qua è facile. Ti sai dove è la direzione? Vedi, basta che tieni questa cosa qua. Nooo. Che bel suono. No, 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 no. Cosa c'è? Un checkpoint. Ah, bravo, hai disattivato tutto? Ah, no. No, non c'è niente lì. Sì, che ci sarà qualcosa. Allora, cos'è quel blocco lì? Ah, ok. Aspetta. Ok, abbiamo disattivato la macchina. Bravissimo. Ok, adesso cadono le anvil. Oh mio Dio, ma cosa? Un death. Ma cosa? E tu lo chiami escape? Beh, comunque ci ha senso. Ok, ce l'ho fatta. Ok, io sono sopra il coso giallo. E pare anche lì frecce? Sì, spara delle frecce verso il basso. Ogni tanto devi avvicinarti, riallontanarti. E poi qui, boh, mi sa che dobbiamo andare avanti. Ok, perfetto. Sì, aspetta un attimo, ci riesco a scendere. Perfetto. Ok, mi sa che dobbiamo andare... Oh, dì. Ah, c'è un mazzo al coso. Ma dai, non l'avevi mai detto. Però lag... No, capita, lagga però. La cucchia un pochettino. Devi farlo prima tu, allora. Eh, sì, ma lagga un po'. Aspetta. Eh, beh. Ma non ha tempo di reazione, perché lagga. Meglio, meglio, meglio. Più sfida, più sfida. Visto? Un gioco da ragazzi. Come hai fatto? Te l'ho detto. Eh, ho fatto quello che l'ho detto. Ah, ma aspetta, lì c'è un pulsante... Dai, fai il checkpoint che non ce l'ho. Ok, allora, debbiamo andare sui... Debbiamo andare sui cosi neri. Aspetta. Dobbiamo andare sui cosi neri. Ok. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Hai già completato tutto il puzzle senza di me? Probabile. Ma sei cattivo, se non mi fai neanche vedere le cose? Eh, ma ora che ci fa qua? Ah, ti fa saltare. Dopo un po'. Oh, è una... Oh, capita, è una speedrun. Sì, dopo un po' di kill. Allora... Va bene, allora... Ah, ma aspetta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Come faccio a far mettere il puzzle? C'è una piattaforma qua verde, ma non sembra nulla. Ah, aspetta, no, ho capito. Devo shiftare. Devo fare shift fino là in fondo. Bene, ci sono quasi. Ok. Vediamo che le zone a fare qua. Oh, mi sa che siamo quasi alla fine. Siamo quasi arrivati. Devo salire solo queste catene e ci siamo. Siamo poi da qui? C'è una linea di verde e di vetro. Ciao. Visto? Succedendo? Eh, no! So, you made it out of my traps, you actually escaped your operation. Wow. La mia pronuncia. Ah. Eh, ora abbiamo finito. Congratulation, you have made it out of the first of 147, 6 dimensioni ho fatto. Quante dimensioni, 146? Mamma mia. Remagliacoli, gain of the giant wall in just a few weeks. Come? No, no. Voglio la lana subito. Ho sclerato un botto per prendere questa lana soprattutto perché. Eh, eh, ok. Stavolta forse ci danno. Sembra di aver capito. Ce l'hai tu? Ce l'ho io? No. No. Ce l'ho ripreso. Eh, now in order to move, you must find a way to escape your beast. No! È copia è questa! Ma cosa? Ah, io non mi... L'hai capita adesso? Ah, c'è il blocco, abbiamo vinto. Abbiamo finito. Ma è... No, in te video me lo... Ma vabbè, dai. Adesso mettiamo la lana... No, la metto. È il tuo video, però. Ma vabbè. Ok, ragazzi, adesso andremo a inserire la lana nello slot centrale della chest. Attenzione, sta analizzando l'item. Attenzione. Oh, sì. Oh, dai, boy, prepariamoci. La lana è pronta. La lana sta ruotando, attenzione. Oh, yes, sì, sì. Oh, boy. Escape complete. Oh, mio Dio, che bello. Yeah, yeah, yeah. Quindi, ragazzi, aspettate, ho le frecce. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Ok. È stata... È stata veloce. Ci abbiamo messo solo un'ora e 47. Forse la più corta... Va, dai. E' stata corta da 4 episodi della Diversity. Visto che la volta scorsa ci abbiamo messo 2 ore, la volta ancora prima 4 ore, la volta ancora prima 3 ore. Eh, lo so. Però vedrai che adesso, ragazzi, avremo soltanto l'avventura, la survival e, infine, la battaglia finale. Quindi, ragazzi, scegliete voi. Facciamo meglio... Prima... Meglio avventura. Meglio avventura. Viste queste cose saranno almeno altre 6 puntate dalla Diversity. Ci vorrà una vita. Magino. Beh, quindi, ragazzi, questo episodio è finito. Spero che vi sia piaciuto. Diciamo che ho sclerato e mi sa che ho... Dovrò, tipo, editare un botto di parolazzi. Sì, ma è solo un'ora e 40 di clip. Sì, ma vabbè, dai, ce la devo rifare. Quindi, ragazzi, il video è finito. Ci vediamo alla prossima puntata dell'episodio, le bizzarre avventure della Diversity 3 Compensure Gamer. Ciao e alla prossima volta e a un nuovo prossimo video. Ciao, ciao. Sì, che ci è stato molto veloce. Ciao, ciao. Ah. Ciao, ciao.